Gli umani sono egoisti e dopo tutti questi millenni ancora guerra a Bondai! Venga messo a verbale che l'assemblea ha deliberato per l'invio di un nuovo messia. Ti basterà toccare il suo ventre e la prescelta riceverà in dono il figlio di Dio. Vado ingravido e torno. Dai, Gasparè, voltagli da bene, offro io! Ti devo salutare perché devo andare a fare una cosa molto importante. Allora salutiamoci, è stato un piacere agguantarti. Ma quello è deficiente! Non posso avere perso incinto a un maschio, è vero? Grazie a tutti!